buongiorno a tutti ragazzi e ben questo nuovo video parleremo ovviamente del video ovviamente oggi è l'ultimo giorno della merla che siamo il 31 come se ci fosse tradizio e purtroppo non è rispettata non ce n'è neve qui fuori ma solo anche un po di caldo fra 17 e anche di qualche 18 similmente anche 20 quindi un giorno primaverile e quindi vi farò vedere prima le previsioni di weather the game map la neve stamattina non c'è stata in green dragon ma arriverà più tardi perché il gelo sta camminando man mano arriverà fino ai primi di febbraio quindi domani nell'ultimo giorno che lui viene però le temperature restano genite ma si deve sbrigare quelli lì a togliere quel ammasso di ghiaccio mostruoso quell'onda mostruosa di 50 metri di ghiaccio è meglio che la levano perché altrimenti se si scioglie il ghiaccio continuo non di 300 metri ma può fare anche i 100 metri ed è lo stesso rischioso quindi devo cercare di fermarlo beh basta chiacchiere via con una buona visione ok eccoci qui ragazzi in the weather the game map l'applicazione prevede il tempo con le applicazioni come sono è un po diversa ora tipo dei bug non riesco a capire era buona di sicuro qua non prevede un bel nulla oggi come dicevo è l'ultimo giorno della merla a quanto pare i giorni della merla li ha fatti qui ovviamente nel mondo virtuale infatti è arrivato gelo con temperature sotto zero proprio e ha fatto un record oggi l'everest raga perché perché ha fatto un record l'everest perché è arrivato 160 gradi sotto zero 160 gradi sotto zero e se il gelo ancora arriva fino a isla nublar che si propaga ovviamente che la neve scende anche al sud dell'isola può arrivare anche a 180 proprio non si può neanche passare altro che neve si fa il ghiaccio con quella temperatura a parte che già c'è il ghiaccio il ghiaccio la neve è diventata tutta ghiaccio e l'everest è aumentato ancora di più 13 mila metri di altitudine col ghiaccio questa volta la proprio tempeste raga e poi angry shark evolution nell'artico è arrivato a 140 si sbaglio di un grado ma ovviamente lì perché ancora il ghiaccio non è proprio centrale quello l'everest perché centrale ragazzi ma la quando tipo c'è stato un po di quel caldo che sono aumentate tutte le temperature l'artico è arrivato massimo da 70 gradi sotto zero a meno 60 o neve proprio tormenta ancora infatti è vero tra l'everest e angry dragon e adesso andiamo a vedere le temperature come andiamo a vedere se le dà proprio lì manco si può stare 150 non si può neanche uno passare raga uno non può passare con quella temperatura ecco visto 160 gradi sotto zero il massimo quando è arrivata la prima ondata era 150 sotto zero angry dragon anche cambiato qualcosa 50 gradi sotto zero poi al di sotto del sud dell'isola 30 gradi sotto zero 20 gradi sotto zero su angry shark evolution angry shark world quindi si fa il ghiaccio nel mare perché non è che sta nevicando proprio gelo forte e su isla nublar che potrei dire potrebbe essere 10 gradi sotto zero già il gelo è arrivato ma non proprio tutto quando arriva ancora di più toccando isla nublar si propagherà raga dice il 30 ma è sbagliato ovviamente sarebbe il 31 anche qui bug chi è? e poi c'è il rischio che se il gelo se ne va questo è il rischio vedete quest'onda tutta di ghiaccio lo tsunami di 50 metri che si è fermato ma era di 300 massimo che arrivava nella sua altitudine siccome il gelo ha fermato è rimasto 50 metri ma se l'improvviso il gelo se ne va e tutto si scioglie sia neve che ghiaccio e le temperature aumentano lui continua l'energia può continuare dai 100 metri credo quindi è meglio che si danno da fare tipo devono fare come le sculture che le così che batto col martello in modo che distruggono il ghiaccio tutto altrimenti continua ora l'ha dato il 31 finalmente visto il gelo che si è propagato e la neve lo dice lì su angry dragon già è arrivata però un po' lenta invece nell'everest nell'himalaya proprio forte tormenta ancora in angry dragon c'è la neve sa quanto durerà e adesso passiamo nel mondo reale che vi spiegherò i giorni della merla che oggi è parte che l'ultimo giorno nel film diceva che secondo la leggenda i merli erano bianchi la merla prendeva in giro gennaio perché era sempre primavera ma a un certo punto arrivò un inverno rigidissimo fra il 29 di gennaio e quindi la merla con i suoi piccoli avevano freddo si lamentavano ma poi hanno trovato un cammino e che cos'è questo cammino si misero lì per giorni e sono diventati tutti neri quando il papà è tornato le ha viste anziché di bianchi tutti neri e da quel giorno in poi sono nati i cosiddetti giorni della merla cioè il 29 di gennaio il 30 di gennaio e il 31 di gennaio possibilmente anche il primo di febbraio ma ovviamente verso il primo ha smesso di nevicare quindi il primo di febbraio non si sa ma invece ad oggi raga questa tradizione non viene rispettata visto che è successo qui ho fatto un altro montaggio in modo che io rispetto la tradizione tipo oggi ricordate un montaggio che ho fatto io di foto già fatte con la neve che avevo scattato nel 2019 ecco visto quello è l'etno neanche si vede certo e queste cose nere che cadono nella neve siccome c'è troppo bianco non si riescono a notare e stavolta siamo 2 gradi sotto 0 l'icoddia il 31 di gennaio poi combo si vedono i fiocchi infatti si nota poi continuiamo ragazzi dal mio barcone adesso andiamo visto ancora nevica e ci sono nuvole perché quella è tutta neve ovviamente tutte quelle nuvole che si propagano ovunque rendendo tutto bianco che sembra quasi una nebbia dalla forte nevicata sembra nebbia ragazzi ma in realtà è neve qua ci sono le macchine e la strada se la vedete lo stesso i fiocchi qua sono diventati di nuovo neri che dal forte bianco possono diventare anche neri ma non che cade tipo neri è tipo il riflesso che li vedi così diventano tipo neri quando li vedi cadere se c'è troppo bianco li paterno anche lì per un po' di meno di nubi di neve poi andiamo a vedere qua ragazzi la piana visto visto ma purtroppo non è in realtà magari fosse vero per questo dal titolo ho detto così beh il video si può concludere qui ok raga beh ragazzi spero che questo video ovviamente oggi è l'ultimo giorno della merla magari fosse stato vero vi sia piaciuto il canale vi raccomando mettete un bel like seguici instagram e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti